mi sta reggisciando pure tutto, dopo mi parli di spugnare non è riferimento nel momento di farci spugnare a vicenda questo mi ha inventato tanto con lo spugnare andiamo già non prena, non prena cazzo un'altra andata un'altra e un'altra super �ciare la poi nel Provo sui? Ok Vado un botto Cazzo Dove? Cazzo C'è un problema, non si salti C'è un problema, non si salti Ma che è successo? No, non lo so Sono arrivato... Andò veloce, ma sono arrivato comunque così Di punta? Non so perché Non lo capito Anche io la ti ricordo di altra volta, è un po' impintato Ma non capisco perché Miche, questo non l'ho mai fatto Giusto la volta che ho detto a Bera me lo faccio Vado? Sì, che hanno riuscito qui Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho fatto un volo che non hai idea. Non è caduto. A me 18 mi vibra la ruota davanti. Non so che cazzo è successo. Mi sono spessato la bici. Non siamo giro. Non mi dire, dai. Hai i cuscinetti? Non puoi capire, non mi ha una parola. Ce n'è chiù? Vado. Una di arrivare a casa di me. Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.